Ciao a tutta, bentornata o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme un mini haul di tre diverse marche alternative, Bennett, Restyling e Iron Fist. Se vi piacciono i miei video vi invito a seguirmi su Instagram, dove sono più attiva durante la settimana, e ovviamente a iscrivervi al canale. In origine l'haul doveva essere di solo due marche, ma mi sono accorta che c'era un po' di disparità tra il numero di oggetti presentati. Parliamo della prima, Bennett Apparel è una marca inglese che comprende molti stili diversi, perché abbiamo varie etichette, ad esempio abbiamo la Bennett Retro legata più a uno stile pin-up, rockabilly, anni 50, oppure la Bennett Alternative legata più al mondo gotico. Hanno anche una buona parte dedicata allo steampunk ed è da questo che io partirei. Allora, questo è un abito in 100% poliestere ed è una taglia M. Come vedete è a righe marrone chiaro e marrone scuro, ha un pezzettino in finta pelle sul davanti di corsettatura e poi una balza in pizzo che decora vari punti. Ha una serie di alamarini di ring che adesso so a cosa servono. Servono ad agganciare tutte le stringhe o in questo caso i due pezzettini. Come vedete dietro ha una piccola corsettatura con un fiocco di raso per cui non stringe particolarmente. Anche questa è una donazione dalla mia famosa amica. Come vedete c'è anche un pezzettino sopra di decorazione nella zona qua del collo. C'erano dei nastri dello stesso marrone sul davanti ma ho preferito eliminarli perché altrimenti sarebbe stato troppo stretto. Mentre al tempo stesso vi faccio vedere la borsa steampunk. Questa è una dei tuoi tipi perché ce n'è un'altra fatta sempre col tessuto a righe. Questa invece è tutta in pelle vegana marrone ed è enorme. Ha tantissime tats che ne ha due dietro, due davanti, una principale. Dentro quella principale c'è la taschina, quella del telefono, un'altra taschina e una imbottita. Quindi tipo per portare il tablet, delle cose così. E dietro ce n'è una con la zip. Quindi è capientissima. Io purtroppo ci ho fatto soltanto una fiera ma ho portato tutto quello che dovevo portare. Acqua, cibo, accessori, compiere. Ci stava tutto dentro. La chiusura è a bottoncino metallico, non è con la chiusura esterna che è finta. E poi c'è un altro gancio di sicurezza, volendo. Il set lì insieme mi piace tanto. Purtroppo è più di un anno che non lo indosso, forse due e si vede avrebbe bisogno di essere un po' stirato. E se vi chiedete perché sto in quel modo strano con la mano è perché non riuscivo a tirarlo su del tutto. E quando poi l'ho tolto dopo il video la zip mi ha ufficialmente salutato. Non è un problema, è abbastanza facile da cambiare quel tipo di zip. In genere questo è il mio outfit di ispirazione steampunk, perché gli steampunkers sono un'altra cosa. Per le fiere estive. Perché nonostante sia un tessuto sintetico e sia lungo, soprattutto è abbastanza traspirante. Nonostante Bennett sia una marca inglese, è possibile trovarla in quasi tutti i rivenditori di cui ho parlato per il video della Brexit, che vi lascio qui sopra. Ed è in uno di questi rivenditori, The Rock Shop Day, che ho trovato l'abito di cui vi vado a parlare ora. È un abito in 100% cotone, che è una cosa piuttosto strana per i reseller fast fashion. E come vedete ha una base nera, con tutti questi piccoli decori in bianco, nero e arancione a tema Halloween. La cosa più bella di questo abito è che ha le tasche, le tasche! Io amo gli abiti con le tasche, ne ho pochissimi e quindi è ancora più bello. Ha uno scollo a barca frastagliato e poi un pezzettino di collegamento qua sopra. È un abito estivissimo, perché è molto molto leggero, quindi non vedo l'ora di indossarlo e sentirmi chiedere se è già Halloween o se è... Sì, 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 sono molto contenta. L'ho comprato quest'inverno e l'ho comprato in super sconto a 17€ con la spedizione gratuita. Anche questo è una M ed ha una piccola zip sul lato per poter essere messo più facilmente. Il prossimo abito lo vediamo dopo, ma non sto a descriverlo e ve lo particolarmente, perché è il mini dress di cui ho parlato nel video di Vinted, perché è lì che l'ho comprato. Quindi non ne riparlo, potete andare a vedere lì se siete curiosi, ma dopo ve lo faccio vedere lo stesso. Facciamo un attimo di pausa, perché è il momento delle promozioni. La youtuber che vi propongo per questa settimana è Maple Polyglot. Questo canale è molto particolare perché tratta soprattutto dell'esperienza di questa ragazza italiana che è andata a vivere in Canada e poi è tornata, dal punto di vista di sostenibilità ambientale. Ve lo lascio perché sto lavorando a un progetto piuttosto grosso ed è il motivo per cui questi ultimi due video sono stati un pochino corti, un pochino razzolando nel mio armadio, ma è un progetto legato alla sostenibilità. Se vi interessa un po' l'argomento vi lascio i suoi video che sono fatti molto bene. Ho partecipato a un giveaway di quest'artista, Lex Liu Chib. Vi lascio ovviamente l'Instagram sotto, come sempre. E questa persona è stata così carina da spedirmi non solo quello che avevo vinto per il giveaway, ma anche un altro paio di stampe. Non entrerò più in camera tra qualche tempo. Sono tre stampe in A5 e tre stampe in A4. La cosa veramente bella, se vedete, sono effettivamente un po' lucide, ma la qualità della stampa per essere disegni digitale è incredibile. Poi diciamo, ce lo sono dei manzoni quelli che vengono qui ritratti. Questa artista ha le commissioni aperte, se vi interessa, e soprattutto tratta personaggi legati al gioco di ruolo. E dovrò trovare un angolo per mettere tutto, ma mi piace tanto. Proseguiamo ora con l'all e partiamo un attimo di restyle. Restyle è una marca che ha sede in Polonia. Ci sono diverse cose che mi piacciono di questa marca e mi dispiace non avere ancora fatto un haul, appena mi sarà possibile voglio farlo. Viene sempre segnalato quando la produzione di un certo capo di abbigliamento è tutta fatta in Polonia. Se collaborano con dei designer che non sono del loro team, ma di un team esterno, li segnalano sempre, andando a cercare, tra le informazioni c'è scritto chi ha creato il design su quel capo di abbigliamento. Restyle è molto famosa nell'ambiente per due o tre oggetti particolarmente iconici. I loro cappelli decolarati sulla tesa, le loro lavorazioni in mesh in trasparenza con sopra il velluto, poi le loro borse. Io vi parlo qui oggi di una borsa che ho comprato usata attraverso Marketplace a 15€ mi sembra. Posso anche il mini dress di cui vi ho parlato prima, giusto per farvelo vedere. La borsa è in pelle vegane, come vedete è la planchette di una tavola Ouija, quindi quel pezzettino a forma di cuoricino per vedere quali sono le lettere. Ha questi due gatti con tutti i simbolini, sì, no, ed è a forma quasi di cuore. Non è particolarmente grande, ad esempio il mio telefono fa un po' fatica adesso a starci perché comunque non si mettono gli oggetti nella puntina ma vanno inevitabilmente qua. E ha una taschina di protezione dietro. È un po' corta per essere portata a tracolla, quindi io preferisco portarla su una spalla sola. Però è molto particolare ed è molto carina per avere una borsettina un pochino più piccolina. Perché poi volevo anche parlarvi di Iron Fist? Perché questi sono oggetti che io ho preso al negozio fisico fiorentino Iron Fist Italia e finalmente hanno aperto uno shop online di cui vi lascio il link per poter soddisfare un po' la vostra voglia di shopping restando su un rivenditore italiano. I leggings che vedete qua sono quelli della Restai di cui ho parlato in un video precedente ed è invernali piuttosto caldi con questa bella stampa. Ho avuto occasione di indossarli un paio di volte perché il clima è diventato improvvisamente un po' più freddo e mi sono trovata molto bene. Insieme cosa troviamo? Il top che indosso anche adesso, che è un top con sopra stampata una lilith, un demone, è un XS e questo è stato un regalo di una mia amica e so essere di una vecchissima collezione e nonostante tutto il cotone è ben tenuto, la stampa è molto ben definita. Poi ci sono le scarpe. Le scarpe che ho indosso sono un mock-up fatto da Iron Fist sulla base di Buffalo e poi ho deciso di decorarlo lasciando così tutto il disegnino in nero sulla base bianca per personalizzarlo un po'. Sono scarpe imbottite, quindi sono piuttosto pesanti, sono invernali quasi. Non mi capita di indossarle spessissimo perché per come è fatta la suola tende a spingermi un po' il piede in avanti. Quindi nonostante sia la mia misura e ci stia bene, non le uso per fare grosse camminate perché altrimenti mi batte il piede e mi dà fastidio. Bene, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio di avermi seguito ancora una volta. Vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate e ci vediamo lunedì prossimo con un video, spero, un po' più corposo. Ciao!